ciao a tutti povolo del tubo e bentornati in un nuovo tutorial sulla off bergman oggi amici miei parliamo del miele della produzione di miele prima però vi ricordo che questa mappa è solo e soltanto per pc la trovate in download nel nella descrizione trovate il link che vi porta sul forum ufficiale vi dovete registrare avete due file da scaricare vanno scaricati entrambi e poi nella stessa pagina che userete per scaricare la mappa c'è sempre in questa pagina qua in descrizione trovate se scorrete anche un link con la password per estrarre il tutto perché qualcuno mi ha detto non so come fare ecco è facile facile raga e poi mi raccomando sappiate che quella che scaricate non è la mappa e basta è un pacchetto mod quindi quando scaricate quel file zip avete bisogno della password estraete tutte le mod che sono presenti di dentro e tutte le mod zippate le dovete poi mettere dentro la vostra cartellina mod mi raccomando allora il miele amici miei può essere prodotto in zone specifiche della della mappa come in questo caso io sono qua sono nel frutteto dove ci sono delle arnie già predisposte sotto al campo 20 oppure trovate le arnie posizionabili da mettere dove volete voi adesso io non mi ricordo eccolo qua becchi big ping needs ecco qua questa è tutta la roba di cui avete bisogno per il miele mentre le arnie sono in oggetti posizionabili beehives eccolo qua gli alveari beehives questi qua voi ve li potete praticamente mettere dove volete oppure comprate eh il il meleto qua e e venite a usare queste qua giù però altrimenti ecco qua potete usare tranquillamente queste qua posizionabili eh e le mettete in farm e ve le mettete dove cacchio vi pare eh come funziona come funziona adesso ve lo faccio vedere ci facciamo spawnare la roba direttamente qui per fare il miele abbiamo bisogno appunto come già detto degli alveari che si aprono e si chiudono eccolo qua vedete voi ovviamente per iniziare la produzione dovete aprirli poi andate su oggetti beehives mamma mia mi staccade la lingua e parla inglese e dovete prendere tutta questa roba innanzitutto dovete comprare le api perché fare il miele senza api è un pochetto difficile le api sono queste honeybees 140 euretti voi prendete questo bel pacchettino d'api sentite sentite come fanno le api sentite e le mettete dentro ecco fatto le api come vedete sono al 100% adesso abbiamo bisogno di honeycomb frame che sono diciamo quelle cassettine eh queste cassettine qua ok voi comprate queste comprate queste belle cassettine qua e anche queste amici le ricaricate dentro eh eh aspetta non mi ricordo se queste sì è ok vanno ricaricate eccole vedete vedete le appoggiate non mi ricordavo se andavano tirate fuori a mano o appoggiate vanno semplicemente appoggiate e come vedete le api iniziano a fare il loro lavoro vedete ve ne serviranno due due di queste per alveare uno e due ecco qua guardate le apettine come come delle allegre cinciallegre come delle allegre cinciallegre volano addosso a voi quindi mi raccomando andateci con le tute quelle bianche quelle protettive ecco fatto a questo punto potete richiudere tranquillamente e far passare del tempo finché eh gli honeycomb frame non si riempiranno di miele ovvero il product deve stare a 100 ma andiamo avanti il tempo e dopo qualche giorno di gioco amici miei troveremo i nostri honeycoms pieni di miele quindi dobbiamo aprire e qui dobbiamo prendere un altro oggettino tube per four honeycoms cioè dobbiamo ricaricarli questa volta pieni quindi prendiamo la cassettina verde vuota eh l'avviciniamo qua e facciamo inizio a riempimento ecco qua che magicamente prendiamo tutti gli honeycoms e li portiamo eh dove avremo poi successivamente messo il l'honey extractor abbiamo bisogno di questo honey extractor io adesso eh vi lascio tutto qua ecco qua vedete questo si prende tranquillamente a mano ve lo mettete un po dove vi pare l'honey extractor ci entrate dentro come se fosse una macchina come se fosse un mezzo come se fosse un trattore una volta dentro dovete fare apri copertura aprite il coperchio uscite di nuovo e ci mettete dentro i vostri cosini piedi di miele vedete ci mettete dentro lui se li carica tranquillamente mettete dentro e adesso il miele va frullato come frullato cioè nel senso che lui deve eh tirare fuori il miele da quei cosetti quindi richiudiamo richiudiamo la copertura e accendiamo eh l'honey extractor quindi prima lo accendete come se fosse una macchina accendete il motore e poi sentite sentite che adesso è acceso e poi facciamo eh girare il tutto come vedete sotto c'è una barra che si chiama processing time che è il tempo di lavorazione è un minuto quindi eh voi intanto potete uscire e andate a comprare i vasetti dove poi eh c'è i secchietti più che i vasetti perché qua il miele è venduto in secchi il secchiettino dove eh dovete mettere il miele eccolo qua questo qua amici lo posizionate sotto il rubinettone principale eccolo qua lo posizionate sotto il rubinettone principale e aspettate eh che il miele sia pronto e una volta che il miele è pronto e sotto avete messo il secchiettino eh in maniera corretta vi uscirà fuori avvia scaricamento voi avviate scaricamento e come vedete il secchiettino di miele è praticamente pronto eccolo qua mamma mia guardate che buono guardate che buono il secchiettino di miele ovviamente io ci ho messo il 50% di eh di cosine quindi mi fa il 50% di miele una volta che sarà il 100% il secchiettino verrà chiuso e voi potrete andare tranquillamente a vendere il vostro bel miele io spero amici miei che anche questo tutorial sia stato di vostro gradimento mi raccomando commentate 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 io vi bacio vi ringrazio e vi ricordo insomma di iscrivervi al canale di lasciare un bel like ricordate che insomma se aiutate il canale a crescere fate anche un piacere a chi cerca questi tutorial eccetera eccetera quindi grazie a tutti quelli che condivideranno e metteranno il likeino io vi ricordo che in descrizione c'è anche l'altra mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20 e 30 amici io vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao